Ovviamente, amiciati, se vi siete persi la prima serie, vi lascerò la playlist qui sotto nei commenti e qui sotto nella descrizione. Trovate tutto sul canale, potete tranquillamente recuperarvi tutto e bla 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 bla. Ehi, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nuovamente qui, signori, nel secondo episodio di Lost Alone, episodio 2. Daddy! Signori, ho già caricato la partita, stiamo aspettando di entrare in gioco. Ha finito di caricare, dobbiamo pressare any key e let's go ragazzi, let's go. Ah ma eh, ci passi? Ah ma ci passi? Ah ma proprio fai così? Beh ma non sei brutti? Ah! Dai, sono tranquillo! Ma no! Cioè aspetta, quindi io ho salvato mentre lui stava scendendo? Questo suono è stato leggermente inaspettato, mi pareva, mi pareva della barba ragazzi, no è la mandibola che abbiamo preso nel precedente appunto video. Sento la necessità di mandarti a cacare Daniele! Daniele, la mandibola, Daniele! Allora qui abbiamo la lampada d'olio, abbiamo una palla che potremmo posare ma ci stava inseguendo Carmelo. Abbiamo recuperato il fegato che dovremmo piazzare nella bilancia. Ma tecnicamente appunto ha smesso di inseguirci. Nei commenti mi avete detto una cosa importante. Ah ha smesso di inseguirci quindi vuol dire proprio che è despaunato? Perfetto, sono contentissimo. Ok, quindi ci sono dei momenti in cui Carmelo ci insegue. Ok, madonna quante borracce. Fatemi l'esaminare perché non l'avevo esaminata. Energy drink. Is dead. Is dead. Ok. Un potente energy drink. Va bene. Prendiamo tutto. Ma che ho? Ah! L'ansia! Una cosa che mi avete detto di controllare è questa cosa qua, ovvero riparando il lui. E infatti, no, vede, no, 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 mi sembra me l'abbia sentito Nicole. No, Nicole, non si è aperto. Quindi dobbiamo trovare proprio la chiave di questa cosa. Va bene, dai raga, dobbiamo andare a piazzare il fegato. Quindi dai, non perdiamoci in ciaccere. Madonna ragazzi, abbiamo 12 energy drink. Abbiamo finito le, come si chiamano raghi, gli ansiolitici. Quindi, ok, dai, entriamo qua. Dobbiamo mettere il fegato. Mettendo il fegato sbloccheremo qualcosa. Obiettivo completato. Chiave cucina. Non mi ricordo dove sta la cucina. E questo silenzio mi uccide. Vabbè, sentiremo i passi di Carmelo in caso... Ah, qua è la cucina, ok. Non mi ricordavo. Ok. La luce c'è, quindi posso accendere. Ed eccoci in cucina. Ti prego, ti prego. Oh, pare il quadro Whiteman. Ok. Che bella musica. Ok. Allora. Prendiamo... Ok. Oh, accendiamo... Perfetto. Allora, accendiamo le candele. Non mi spaventare, ti prego. Oddio che sei bruttino. Nonnina! Nonnina! Ti piacciono le easter eggs? Non dare la rosa ad Alberto. E vorrei farvi notare come pure nel 2 il libro degli easter eggs si trova in cucina. Bella chicchietta, Daniel. Ok. Che vuol dire? Troverò un ero... Che schifo è stu coso. Che schifo è stu coso. Ah, ok. E il collo. Ok. L'ho capito appena... Cioè, ovviamente appena lo... E... Uh, cos'è? Uh, fiammiferi. Li prendiamo. Perché questi non si possono aprire? Boh, non capisco. Eeeh... Va bene, prendiamo tutto. Uh, 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 uh. Signori, fermi tutti. Alzati. Posso dire che questa cucina è abbastanza inquietante. Questo è un altro... Capitolo 4. Cuore sospeso. Confuso dalle parole del demone, cazzo, chiese delucidazioni. Vabbè, ragazzi, poi lo verremo a leggere. In caso, diciamo, quando capiremo che sarà importante, lo verremo a leggere. Che c'è scritto? Majors Fields Washington Barber Whiskey. Vi giuro, ragazzi, lì ho letto, tipo, porcaccio. Quella parte... No, c'è scritto Prosecco, tipo, o Progetto. Non capisco. Poi in editing magari ve lo girerò pure. Avevo letto porcaccio, non vi dico che cosa, ma penso... Ci arrivate soli. Ma che cosa ho trovato? Il collo. Lì devo combinar? No, devo trovare il teschio. In questa cucina io non posso aprire cassetti. No. Non si può sturare, bisogna sgorgare le tue... Menomale che sono rientrato. Perché mi sembrava strano. Ve lo dico sinceramente. Perché io ho detto proprio questo. Ma che sono venuto a fare in cucina? Cioè, che senso ha venuto in cucina se non trovo nulla per andare avanti? C'è la nostra lavandina. Ci tengo a rispondere pure a tutti quelli che mi dicono Ma perché quando fai una cosa poi riesplori tutto? Perché nel mio cervello, cosa che da quello che ho capito Daniele probabilmente non ha fatto, io sono convinto che ogni qualvolta io triggero nuovi eventi, cioè, possano cambiare determinate cose, anche nelle stanze indietro, no? Quindi, per questo, quando tipo ad esempio trovo una chiave, non la vado subito a utilizzare. Bensì, magari esploro indietro, perché magari l'aver trovato questa chiave ha triggerato nuove cose, magari in stanze precedenti. No, io là sotto non ci vado. Proprio ancora... Oh, cazzo. Ok, qua è chiuso, va bene. Questa cosa è l'uscita. Ok, no, questa è la fine. Dicevamo, storiamo... Ma è acido, tipo, era acido. Era acido, ma non è acido. È appunto. La chiave più resistente della storia, ragazzi. Chiave soggiorno. Che brutto il soggiorno. Ok. E ora mi sa che è ritornato carmelito, vero? No. Il soggiorno dove era? Sopra, sì, sopra. Ma qui non c'è una porta di... Allora. Ogni tanto pigliamo lei per fare luce. La cantina. La cantina era... Dov'era la cantina? No, la cantina! No, la cantina! La cantina! E chi è la donna coniglio? È tornato carmelito. Allora, è tornato carmelito. Comunque io in questo momento, ringraziando il cielo, sono in un mood... Oddio, non coraggiosissimo, eh. Però lo tollero carmelito, ok? Lo tollero. Anche perché ero curioso di guardarlo. Cioè, volevo vedere com'era fatto, com'era il modello. Quindi ero parecchio curioso. Allora, lui è qui fuori. Che brutti versi, però. Carmelito, che brutti versi. Non entrare in bagno, però, che comunque... Cioè, va bene che ti tollero. Ti tollero non vuol dire che ti voglio bene. Giù, cioè, non è che adesso siamo amici. Dobbiamo andare a mangiare la pizza insieme. Carmelito, è giusto. Ma perché c'hai fai versi qui fuori, carmelì? Putt'è resale, sta cabba, se sono in doccia. C'è, sì. Vuoi entrare? Che nella doccia sono sicuro. Sono al sicuro. Ragà, lo sento... Lo sento qua fuori. Carmelito, carmelito. Allora, io e te siamo amici. Carmelito, 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 carmelito. Allora, no, no, no. Allora, carmelito, carmelito. Allora, allora, carmelito, ti prego. Allora, io e te siamo amici. Questa cosa che tu sei aprire le porte, però... A me non mi piace. Però, bottare sale, Daniele. Perché in doccia non si alza? Fammi mettere in piedi. Che camurria! È sceso carmelito. Pare sia sceso. No, ma quando fa questo verso non vuol dire che... Vuol dire che mi ha visto! Vuol dire che mi ha visto! È carmelito! Ma non ce l'ho dietro! È dietro! È di Maria che ha! No, che melito! Però, io e te così non andiamo da... Che melito! Che melito! Che melito! Non ci sono! Non esisto, carmelito! Non esi... Maria che è sempre più carmelito! Non esisto! Io non sono qua! Non so, Maria che... Maria che ansia! Carmelito! Carmelito! Allora, io e te ne dogo! Ma, ma, ma in tutti i posti dove devi andare! Poi punta a cantina devi andare! C'hai me... Cioè, devo aspettare che si leva di culo! E non lo posso nemmeno affrontare! Uno, perché vedi che è la verità, c'ho l'ansia! 2.50 di vita! E da quello che ho visto posso reggere due colpi! Madonna! Sta cabba, sei sorredoccia! Le hitbox! Daniè! Puoi rivedere sta cosa, ca... SALI! Finchia... Deci cento metri in grado di punta per la canale! Bottare salatea, Giorgi! Ma, guarda, 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 guarda! Ma, che fastidio! È qua... È qua a bottare salatea, ma io come devo fare? Ah! Non guarda! Carmelito! Mi sono cagato sotto! Che brutti suoni! Che brutti suoni! Che brutti suoni! Che brutti suoni! Oddio! Mi sono spaventato perché ero convinto di averlo seminato! E quindi, appena me lo son visto dietro... Non me l'aspettavo! Come faccio a superarlo? È giù! Non è giù! Non è giù! Carmelito! Hai rotti i coglioni! Giù, c'è chi me lì! Comunque ho notato una cosa... Ho notato che lui era uscito da qua! Ah, ecco come lo devo superare! Mi sembra che avevo trovato la chiave del soggiorno! Quindi lo devo superare... Ah, quindi... Ok! Eh, oddio! Che bella notizia! Tu che cosa sai? Camera del bambino! Ah! Salviamo! Con molta calma! Cioè, oddio, calma! Maiale! Stai... Ah no, tu lo vero! Dopo lo sturo lavandini... Ti trinchiera! Ok, pigliamo la chiave! Chiave della cucina! Allora, il macellaio ritorna non appena io sturo giù! Ma guarda te! Non me ne era accorto! Petrolio! Meno male! Meno male! Non me ne era accorto! Meno male! Per sicurezza leggiamo... Uh, bello questo disegno! Cioè, guarda che figata ragazzi! Cioè, sono due donne ma raffigurano... Cioè, raffigura anche un cuore trafitto dalla spada! Adoro questi design di queste cose! La nonnina... Che bellissima! Ah, ma sbava! Quindi avrà la 104! Mi dissoci altamente da me medesimo! Ma c'è il maiale che si triggera! E rieccoci qua! Raccolto chiave e soggiorno! Ma perché siamo ubriachi? Perché siamo ubriachi? Perché abbiamo la visuale di ubriachi? Ok, credo che era per questo che avevamo... Non lo sento però! Risolviamo! Ti giuro che se me lo vedo nelle scale piango! Allora... Picciò! No, no! Picciò! Picciò! Che brutte versi! Immelito, devi fare qualcosa per questa gola comunque! Scusa, non ho la chiave del soggiorno! Oh, no! Ma... Non l'ho presa! Ma... Non l'ho presa! Ma lui è qua! Lui è qua! Ti prego, Carmelito! 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 Si buono! Meno male! Meno male! Ma con questi suoni lui mi deve smettere di insieme! Aspettino! Chiudo! Carmelito! 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 Ci vediamo sopra! Ti prego, non ne stai buono, eh! Tu urli! Tu prima o poi urlerai! Che fa? Non lo so io! Usaccio io! E ci vediamo sopra! Dai! Che poi ci vediamo sopra! Oddio! Ci vediamo un parolone, eh! Che cazzo fa? Che su che? Che in che? C'è un vizio che è passato la signorina! Però! Metti a posto le palle da beleardo! Oh, nice! Ah, giustamente non c'è la torcia! Aspettino! Stia le tante! Tarecchi! Con calma! Ficchia no! Ok! Hai l'ansia, bottare sale! Allora, meno che gli energicin che non mi mancano! E di questo sono contento! Cos'è questo? Allora, leggiamo! Quel danato bambino mette le mani ovunque! Con il noto non vieni! Mi ha conscretto a chiudere elettronicamente anche il comodino! Eh, la la do! Giuro che uno di questi giorni, se dovesse dipentecare il codice, l'ho nascosto dietro alla tela dei quadri! Con un poco di acido apparirà subito! Nessuno deve accedere al contenuto di questo comodino! Nessuno! Segnerò l'ordine corretto dei numeri da un'altra parte, George! Signore, piede de puerco! Allora, prendiamo... Intanto vediamo il quadro! Bello, aggiungerebbe che esaminare amore sospeso! Ma io ti devo dire, bella cornice! Uh! Ok, meno male! Ma c'è un'altra candela? Ma sai che credo di no? Che togliamo la sta torcia perché non vi ho niente... Ah, qui c'è... Uh! Perfetto! Ma... Chiudi! Facciamo che chiudi perché questo buio mi mette leggermente angoscia! Facciamo che chiudi! Mi chiudo qua dentro... Esatto! Tanto qua dentro non può succedere niente! Abbiamo già appurato che non può succedere niente! Non succede niente! Allora, mi sembra di aver visto... Esatto! Pichiamo tutte le palle! Perfetto! E le mettiamo qua! Uh! Ok! Pappete, pappete! Ok! Quante palle mancano? E non lo posso capire, vero? Metti apposta le palle da biliardo! No! Non lo posso capire quante me ne mancano! Va bene! Le palle le ho postate tutte! Mui il quadro scendolo piazzo! Con le mandibola me li tengo! Il piede di porco me lo tengo perché è importante! Picciotti! Gli ultimi due... Che devo fare? Non è possibile ricaricare tua zia! Guardiamo qui sotto! Un meccanismo che blocca l'apertura! Va bene! Uh! Palla numero dieci! Uh! Cos'è? Chiave del magazzino! Il magazzino è giù! Il magazzino è giù! Testa in fumo! Allora, piazziamo il quadro! Che non sento nulla! Il magazzino è giù raghi! Dai andiamo è salvo! Ma ti prego non... Ti prego eh! Ok, andiamo è salvo! Andiamo giù! Che brutta! Questa è la parte salvo! La parte è chiusa! Ti prego! Ci sono tanti che... Maria tu, tu sei, tu, tu sei! Una cosa grande per me! Tu sei! Una cosa che mi fa innamorare! Mi sto cacando sotto! Già lo sai! Uh! Ok! Uh! Ne avevo già palla! Ne avevo già cosa! Ne avevo già... Oh! Che meno male! Ok! Chissà se è questa apertura! Uh! Uh! 100 film da vedere! Ciao! Questo è Victor! Vedi delle differenze! Io no! No! Sì effettivamente! Voto 10! Sì effettivamente! Aspetta che c'è scritto! Tutto il cinema in prima fila! Bello bello! No sì effettivamente Victor è... Eh... Su i tendici! Allora! Cosa c'è qua dentro? Ti prego non mi... Miracolo! Miracolo! Che succede? Uh! Uh! Passarono cinque anni e tutto cambiò! Contrariamente al volere di Dio e al sapere della scienza, Cristina restò incinta! Uh! 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 Il cinquantacinque diede alla luce una bellissima bambina e la chiamarono Elsa, come la mamma di George. Ok? Perché questa specifica? La coppia era al settimo cielo. Eh! Ma si vede come festeggiano! Ma la gioia, giustamente, non durò a lungo! Elsa nacque con una grave malformazione al volto, ma questo non le impedì di inseguire i suoi sogni e di crescere in un ambiente felice. Ok? Immagino che non la vedremo mai in faccia. Ma per George questo non era abbastanza. La sua depressione tornò a galla. Prima non si sentiva abbastanza uomo per avere un figlio. E ora si sente colpevole. Ora non si sentiva abbastanza uomo per avere un figlio sano. Odio. Ok? Nella vita di questa famiglia si aggiunse Alberto. Cazzo è sto Alberto. Alberto era uno psicologo affetto da albinismo, che aiutava Elsa ad accettarsi. Ma la sua costante presenza nella casa non era gradita da George. La stabilità della famiglia si incrinò definitivamente quando Cristina rimase nuovamente incinta. Incinta di chi? E si scoprì. Sano. Il 25 luglio del 65, dieci anni dopo, diede alla luce un bambino bello, forte e sano. Maschio. Ma queste caratteristiche del miracolo divino non fecero altro che far sprofondare George ancora più a fondo nella sua depressione. Vabbè, George, ma sei messo bene comunque, eh. Cioè, figlio me, ammazzate, verrà. C'è, c'è, c'è. L'uomo non accettava il miracolo, l'uomo non credeva a sua moglie, l'uomo era convinto di essere stato tradito. Così, infatti, mi immaginavo. Siccome è uscito sano, capito? Non voglio neanche guardarlo. Ma ecco perché litigava con Alberto. Ma è tuo figlio, George, dobbiamo dargli un nome. Potresti chiamarlo Alberto, come il padre. Guardalo. Ma che big boss è. Oddio, più che big boss. Oddio, da lontano mi pareva... Per un attimo è il revolver Osalot. Ma giusto per un attimo. Poi avvicinandovi. L'uomo grigio. In realtà è solo un uomo grigio. Qui sopra non c'è nulla. Oh, palla. Oh, petrolio. Oh, chiave. Chiave studio di Cristina. Oh. Ma libro anima sospesa. Posso dirti una cosa, Daniele? Ma non credi siano un po' troppo zuppate le cose? Oh, meno male. Ok, usiamoli subito. Oh, minchia. Sei. Quando calma si sono le opprese. E a malincuore, signori, siccome il video durava troppo, ho preferito dividerlo in due parti da 25 minuti ciascuna. Quindi, signori, se volete il seguito, lasciate un bel pollice in su, un bel commento e domani stesso ve lo farò uscire. Vi stai intrigando la serie, eh? Ditemi che ne pensate. Detto ciò, a domani. Ciao. Il video è finito, iscriviti al canale, e se te lì sei persi, guarda questi video qua. Yeah. E basta, tutto qua. Se poi hai visto anche questi due video, ci vedremo domani con un prossimo. Forse. E... E... E...